Francesco Palombi Siamo una struttura oramai molto agile, vocata principalmente alla scelta dei titoli di maggiore interesse e agli aspetti commerciali. Noi curiamo in particolare la distribuzione nei bookshop museali che rappresentano per noi il canale naturale di commercializzazione delle edizioni. Ogni anno in questo mese l'editore pensa a quale potrebbe essere il libro su cui riporre il maggior successo. Quest'anno abbiamo dedicato, abbiamo pensato potesse essere questo, una guida a quartiere Coppedè, che è un luogo della nostra città, simbolo del Novecento, sempre più amato e apprezzato dai cittadini romani ma anche dai turisti italiani e stranieri. Questa è una guida che ne illustra e ne spiega i simboli, l'iconografia, l'arte e le architetture dei palazzi e dei villini in particolare. I progetti futuri sono sempre rivolti alla promozione e alla diffusione della cultura nella nostra città. Il principale progetto prossimo è la realizzazione di una collana di sketchbook che si occuperà di documentare e di illustrare i quartieri di Roma, di Roma moderna e le architetture del Novecento.